È possibile che io per trovare le partite ci devo mettere sempre dei millenni? Benvenuti signori in questo nuovo video, noi ci riproviamo dopo due sconfitte Proveremo questa volta a portarci a casa qualche punticino con la vittoria Ci vediamo in game Tre minuti signori, ci siamo Ce l'abbiamo fatta dopo tre minuti di ricerca Si parte Oh, aereo presidenziale, attenzione, attenzione anche artificieri Vediamo Allora io prenderei smoke e andrei in stanze di unione ufficio presidenziale E via, si parte Una barricata qua, una barricata là Bene, mancano tre minuti e io mi metto qua a sedere Vi aspettiamo, visto che siamo in aereo presidenziale Probabilmente avranno anche il nostro amico Glatz Le telecamere sono andate tutte allegramente a quel paese Quindi vediamo un pochetto come agire Silenzio Parte benissimo Oddio quel Cianca Quel Tà Cianca ragazzi Ma Cianca è la brevenzione Piccola imposizione Attenzione Lo so che sono stato individuato, è normale Ovvia cosa Mi sa che non hanno Glatz probabilmente Se fanno così gli spavaldi Probabilmente non hanno Glatz Però vediamo Lì in fondo non c'è nessuno quindi non usa la mia tecnica Che qui vi farò vedere Spettacolare tecnica A posto Il nostro amico Touch E' morto Touch Anca Salve Spacco drone di merda A posto Un drone in meno No 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 mezza vita yes che meraviglia allora andiamo glaz e se vanno davanti vi faccio vedere uno spot veramente bello o perfetto sono in punta all'aereo ora vi faccio vedere veramente uno spot fantastico e come uccidere una persona almeno che è nella bomba proprio in cima all'aereo che ora non mi ricordo se sia a o b ok siamo nati ragazzi basta andare allora sperando che nessuno esca basta andare molto molto lontano e più lontano si va più è facile vedere i nemici dentro quella stanza poi se avete anche una mira di merda se avete una mira di merda non riuscite a prendere neanche quelli che vedete bene però se noi andiamo molto indietro riusciamo a vedere lì qualcuno non ti distrarre torna al lavoro guarda lo che si espone sta arrivando assist io ho salvato il culo probabilmente uno è down sopra quindi io tornerei la praticamente però siamo stati comunque utili e sapete che se qualcuno va in cima all'aereo potete usare questa tecnica che è fantastica l'ho visto durante una streaming e non me lo scorderò mai più l'ho visto è un nuovo nostro plantin A plantin A go plantin A, plantin A soon cover him, cover him piantiamo un po' abbiamo vinto good job good job veramente abbiamo fatto questa grandissima azione questo grande smoke molto furbo che entra con la granata in mano con la fumogena in mano io rimetterei anche mute e ci rimettiamo in cima arrivo ecco i nostri mute ormai siamo così qua dentro giustamente che cosa meravigliosa che siamo chiusi qua dentro fa un po' cagare in realtà ma che bravo che bravi questi qua guarda si vanno a far uccidere perché vogliono sponchillare go to another room go to another room come faccio se mi hai chiuso qua ma di la non c'è nessuno che sta succedendo ho preparato usa una nitro no 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 grazie no 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 quanto assist almeno quello grazie di farlo solamente non ce la possiamo fare ragazzi dai che sono in agonia ho sbagliato perché c'era grazie ultimo nemico è morto in questo ruolo, be careful window hai la window non, non, vai tornare non sei ritardo hai la fucking window cosa fai? non ti prendi non ti prendi se ci va jager mi fa un gran favore oh ce l'abbiamo fatta e che caspita questo tizio che mi urla nell'orecchio cioè stai zitto grandissimi ragazzi forze così io mi dispiace ma riprendo glaz oh ma che bello sono di nuovo in cima eh ma sono nato di qua vaffanculo allora dopo questa corsetta no piglia il disinnescatore andiamo di rifare questa tattica di prima io non so se quello sia un tizio però sparo cambio cambio no non è nessuno e invece lì c'è qualcuno attenzione non ti distrarre tornare no 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 mi distraggo vediamo se riesco eh nessuno si muove il disinnescatore è di nuovo nostro vai lo vado ad aiutare va che è meglio corri forest corri corri 1 2 3 ta na 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 ta na na ta na na tu 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 1 2 1 2 1 2 vai ci siamo c'è nessuno di qua dove arrivano colpi rimane un nemico abbiamo vinto così non ho fatto niente ragazzi best round della storia ever proprio nel quale con glass devi supportare ovvero fare paura alle altre persone ai nemici loro si nascondono e vengono uccisi male dagli altri che entrano allora visto che prima ci ha andato particolarmente bene con mute e non abbiamo mute vado bandit guardate per sicurezza poi almeno facciamo punti per punti questo lo mettiamo benissimo ma ci ha fatto già dei danni a piacere non so se loro hanno un glass però non l'ho mai visto prendere da adesso fino da adesso quindi ah no si invece prima l'hanno preso go reinforce if you have I don't have reinforce bene Ash fa dei danni no no non ci credo Ash on the ground come to me come to me Ash on the ground ok ok cazzo sono spaventato tantissimo raga back upstairs ah mannaggia ragazzi 3 a 2 abbiamo perso speriamo di fare un attacco migliore adesso ci hanno piazzato proprio in un punto di merda impressionante oh bravissimi loro scarsi noi e non so se riprendere glatz perché loro probabilmente potrebbero cambiare andiamo a montagna ragazzi che è montagna in bombe molto molto utile carla no ma disinesco riprendilo dai me lo devi fare prendere a me abbiamo il disinescatore ok bene bene ti è già uscito dai ti fa proprio piacere perché non vengono qua e dai venite qua no solo no lì Granata lanciata Vai Sono tutti qua Go kill here Kill il monte Be careful Talk is between Go you can kill here Go kill Ah ma non c'è nessuno dietro di me Why is he dead? Why is he dead? No shame The dock is low Nice Innesco bomba avviato Innescatore Wow Vediamo Vediamo se riusciamo Un solo difensore rimasto Un solo difensore rimasto A posto Forse abbiamo vinto No dai uno contro uno Ora sono in ansia Ora sono in ansia E sono morto Che palle Questa ha tempo di disinnescare Che palle con i miei amici di merda Che palle Se stesse zitto Magari ogni tanto Senti 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 Sentilo Senti Senti Guarda che Fuze deve rompere le palle così Senti Passa va Passate va Scendete le scale Scendete le scale ora eh Stronzetti Nice Guardalo Grazie che mi guarda male Quanto non esco eh Cioè non so se hai capito ma non esco Vai vai Forse l'ho sprecato in realtà Senti Abbiamo un minuto Ragazzi entra Smoke In questa corner In questa corner Assist Vaffanculo ascia va Faffanculo ascia Grazie fuori Grazie è proprio roba che se entra Faccio come ascia Vaffanculo ascia Ricarica Voi come entrate 30 secondi Dovete piazzare amici bene Solo grazie Abbiamo vinto Vaffanculo ascia Allora Potrebbe essere l'ultimo round Ri Ri Proviamo con montagne Si ostinano a mettersi in cima E partiamo Sì Ricarica Mamma Ragazzi Sì Sì Noi Noi Non Cosa Un salve gente abbiamo piazzato anche mi metto qua salve a posto abbiamo vinto GG easy GG easy questo ha usato la mia tecnica non è che c'è il copyright però ha usato la mia tecnica ragazzi vittoria sofferta ma abbiamo vinto grazie mille per avermi seguito fino a qui noi ci vediamo ad un prossimo video ad una prossima live ciao